Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo sotto Ho tolto tutto Ho per adesso un pochino arrasato Off camera E' venuto Carino E dopo Ve lo faccio vedere Ho paura però Ho paura che mi toglie Tutto di nuovo Cruciamo le dita Anche perchè se continuo a farlo Addio video di tocca Se continuo a farlo troppo Addio video di tocca Sento quello Non ho Il bagno è venuto Carino Naturalmente un bagno sotto Che è quello per gli ospiti E quello per gli ospiti Di solito La vacca Bella Credo poi non lo so Cioè si Penso di si Si fa un bagno Spratico Si lo fai tutto bello Carino E poi ci metti Il sapone Per le mani E la tovaglia E basta Naturalmente Immacolato Immacolato Come l'hai capito Prima di me Spiegamelo Immediatamente Cioè no Lei mi doveva spiegare Come ha fatto Scoprirlo Prima di me Perfetto E così E' il bagno Quello Degli ospiti Così che Non c'è manco niente Così che non ti possono Toccare niente Il piano di sopra È solo Per venire A mangiare Basta Perfetto Qui ci andiamo Dopo Qua Il soggio Una delle parti Più belle Il divano Stavolta Non but Sì Sombra buttato All'angolo Sombra buttato Sempre Ci sarà Una volta In cui Non sarà buttato All'angolo Forse Forse ci sarà Qualche Ma Non sarà Oggi No Non sarà Mai Forse Sarà Raricce Che io Decido Di cambiare Questo Che perché Ha i suoi Vantaggi Poi Prendo La tv Quella Super Bella Meravigliosa Videogiochi Tutto Quanto Tutto Blu Tutto Giallo E Metto Questo Poi Qui Posso Mettere Al centro Gli Scacchi Poi Qui All'altro Angolo Metto La credenza Anche se La credenza È Da cucina Si è vero Questa È una Tipo Della Credenza Da cucina Poi Qui Ci metto Un bel Caminetto Ci metto Un cammino Mettiamo Il cammino Moderno Ci metto Un cammino Il pianoforte Ci ho messo Il pianoforte Lo mettiamo Qui Ci metto Ci metto Qua Questo Come ogni volta E Bello Pulito Carino E ci mettiamo Una pianta Una piccola Non esagerata E Due Bei Lampadari Se li troviamo No 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 Le lucine Da festa Nel bel Soggiorno Quello Bello E mi Però Questo qua Bello Carino È venuto Abbastanza Una E mettiamo No questo qua Non c'è Perfetto Adesso Mettiamo Le pareti Delle belle Pareti Da soggiorno Che non siano Quelle del bagno Sarebbe Molto Bello Gradito E apprezzato E che non siano Nemmeno Quella della cucina O della camera Delle bambine Carino Carino Ah Comunque Per chi Non lo sa O per chi Non l'ha Capito Saputo Vabbè Per qualsiasi Evenienza Vi Ridico Vi ridico Quando Sì vabbè Quando Vi mander Sì quando 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 Vi manderò Le richieste Di amici Su Roblox Ve le manderò A 480 Iscritti Sì A 480 L'ho detto Giusto Perfetto Poi metto Qualcosina Di altro Sole Non ne mettevo Qualcosina No Allora Qua Mettiamo Questo Ma è tutto Bello Perché tutto Bello Iniziamo a mettere Qualcosina La prima cosa Che mi piace La mettiamo Questo 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 Questi non c'entrano Però sono belli Questo Sembra una Bomboniera Questa È una Fotina Carina Una Clessidra Molto Bella Questo Si brucia Pure E Torniamo Così Bella La lente Di Ingrandimento Ma Basta Stai Facendo Troppo Fumo Me Lo adoro E Poi Che Metto Questo Questo E Questo E Solo Le E qui Dobbiamo Mettere Una Cosa Importante Non faremo La sala Giochi Ma Metteremo Qua I giochi E Lì Facciamo Una palestra In casa Ce n'era Anche Uno Della Casa Neon E Adesso Mettiamo I Joystick Questo È Quello Di Ophelia Questo È Quello Di Arianna Questo Che è Un cuore Perfetto Qua c'è il soggiorno E adesso si va Alla palestra Alla palestra Ecco Qui Oh si vede Quanto sono Ricchi Questi Qui Chi vorrebbe Essere Come si dice Ricchi Come Loro Alzi la mano Io La sto Alzando Sì Sì Io La sto Alzando Questo Sarebbe Bellissimo Verena A casa Cioè Io ce l'ho Grande Ma non Così Credo Buono Lo so E la tv E quella È per lo yoga 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 Allora Togliamolo Da qua E Lo yoga Poi naturalmente Ne andiamo a comprare Qualcuno Anche perché Non è un gioco È un Video Sto facendo La macchina Pronta Non posso Metterlo Dove Voglio Il gioco Perché Devo Mettermi Una Mezzolina Solo Per Quello Scendiamo Un pochino E mettiamo Questo Qui Poi mettiamo Questo Qui Hanno anche Un trampolino Fuori Ma quello Non è per Fare ginnastica Quello È per Divertirsi Perché È bello Perché No Questo Questo Poi La palla Questa Qui Poi Mettiamo Una cesta Mettiamo Quella Rappa E ci mettiamo Tutte le cose Ci mettiamo Il peso I pesi I tappetini Pesi Pesi Questi Qui Pesi Quelli Lì Pesi Di Lù Pesi Di Lei Prendiamo I pesi Da Chiunque E questo Per togliere L'odore Di sudore Cioè Scherzano Quello È un profumo Ambiente Sono abbastanza Puzzare Però Nel gioco Sono Profumatissimi E questa È la palestra In casa Niente di che Forse È solo C'è Forse È solo Migliore Di quella Che c'era Perfetto Perfetto Ragazzi La casa È finita Ti prego Toccano Mi levare Tutto Ti prego Ti prego Poi Toccano Mi levare Tutto Io voglio provare Qualche altra Scatola Per La Posta Questa Manca Si mette Questa Non si mette Ed è Orribile Questa Vediamo Non dirmi Che si mette Solo Questa Solo Questa Vediamo Se si mettono Pure Gli oggetti Ci sto messo Un oggetto Impossibile Il campanello Non si può Maltare E pazienza Se no L'avremo Stati Un cuore E vabbè Per dove Stanno andando Le giardine E mettiamo Questa Qui Ragazzi Il video Finisce Qui Ci vedo Al prossimo Video Ciao